Viviamo in anni di terrorismo, potremmo anzi dire che oggi il terrorismo è la parola chiave dell'odierna politica internazionale. Il nemico anzi è identificato puntualmente dall'Occidente nel terrorista. Questo scenario si è schiuso, io credo, in maniera chiara e univoca con il 2001, all'indomani dell'abbattimento delle Twin Towers, quando il presidente Bush nel suo discorso individuò esplicitamente il nemico nel terrorista. Per la prima volta dopo il 1989 il nemico cessava di essere identificato con il comunista, anche alla luce del crollo Berlino 1989, del peraltro crollo inglorioso del comunismo storico novecentesco, e il nemico veniva ora identificato con il terrorista. È uno scontro di civiltà, diceva Bush, è una guerra mondiale, ogni mezzo sarà lecito per distruggere il terrorista. E questa pratica ritorna soprattutto alla luce del fatto che oggi, 2016, veniamo dopo grandi attentati che hanno sconvolto e insanguinato il mondo. Penso ai due attentati di Parigi del 2015, Charlie Hebdo e poi quello di novembre 2015, penso, è vicenda recentissima, all'attentato di Bruxelles. In qualche modo è difficile capire chi sia il terrorista, chi davvero si muova dietro questi terroristi che in fondo figurano sempre come pedine eterodirette. Chi è dietro questi soggetti, quali organizzazioni, quali interessi? Sicuramente senza scadere nel più vieto complottismo si può sostenere che a trarre giovamento dal terrorismo è ancora una volta sempre il potere. Il potere si giova del terrorismo, non sto qui dicendo che sia il potere a promuoverlo e a fomentarlo, dico sicuramente però che se ne giova, essenzialmente per diversi ordini di motivi, che qui telegraficamente compendierò. In primis il potere si giova del terrorismo perché può operare quella che io chiamo la distrazione delle masse o se vogliamo lo spostamento di prospettiva. Molto banalmente con il terrorismo la contraddizione cessa di essere identificata nel fanatismo economico, nella finanza terroristica anch'essa o se preferite anche nelle forme di violenza economica coessenziali all'ordine neocapitalistico. Il nemico e la contraddizione diventano puntualmente il terrorista, si parla solo di quello, di terrorismo peraltro indebitamente identificato con l'Islam, il nemico è sempre solo l'altro rispetto all'Occidente a morfologia capitalistica. In secondo luogo il potere si giova del terrorismo in ragione del fatto che può per così dire operare una forma di riavvicinamento delle voci critiche al mondialismo occidentalistico, presentando sempre di nuovo una linea divisoria fra l'Occidente buono e umanitario e il resto del mondo identificato con il terrorismo, di modo che anche le voci critiche alla fine si convincano della bontà del partito unico della produzione capitalistica o se preferite dell'ordine mondiale occidentalistico presentato come pur sempre migliore rispetto al terrorismo identificato con tutte le altre civiltà che non siano quella del capitalismo dominante. In terzo luogo, connesso con gli altri due punti, vi è il seguente. Il potere si giova del terrorismo in ragione del fatto che orizzontalizza ulteriormente il conflitto. Il conflitto cessa di essere praticato nella tradizionale forma eghelianamente del conflitto servo-signore, base-vertice-alto-basso, e viene invece orizzontalizzato, cioè proiettato nel fronte del servo stesso in lotta nelle sue fila. I giovani disoccupati cristiani, anziché identificare il loro nemico nel signore delocalizzatore, globalizzatore della finanza, identificheranno il loro nemico nei giovani disoccupati islamici identificati indebitamente con i terroristi. È il capolavoro supremo del potere quando la lotta resta proiettata nel piano dell'immanenza del servo e non si dirige verso l'alto, verso il signore. Quando cioè il servo vede il proprio nemico nell'altro servo e il signore può in questa maniera praticare indisturbatamente il suo folle progetto di delocalizzazione, di rimozione lineare dei diritti, di mondializzazione capitalistica dell'intero pianeta. Ecco perché il terrorismo, io credo, al netto di questi ultimi sconvolgenti eventi possa dirsi uno strumento che alla fine va tutto a vantaggio del potere stesso.